Sicuramente il mondo del Dior è molto vasto e anche il nostro modo di vedere le cose è molto vasto. Siamo influenzati da vari stili, da varie epoche, da vari materiali. Abbiamo cercato comunque di reinterpretare e iniettare magari un po' di contemporaneità attingendo da alcuni aspetti più storici della Maison. Abbiamo voluto fare degli oggetti che sono senza tempo in realtà, che scavalcano un plat di campo alle epoche. Ci ha dato anche la possibilità di attingere di una grande atteggionalità ed è sempre molto bello quando si ha l'esperienza di poter esplorare nuove tecniche con una Maison dietro che ha una grossa capacità, una storicità in queste tecniche.